L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odonto tecnico insieme per il futuro. Spiazzo dinanzi allo stadio comunale Luigi Currera di Sciacca, alle mie spalle come vedete gli uomini e anche i mezzi che questa sera effettueranno la sanificazione dell'intero territorio comunale. Assessore Locicero, una collaborazione tra la protezione civile, il corpo forestale e i volontari dei vigili del fuoco in congedo. Un lavoro che partirà stasera, una sanificazione dell'intero territorio comunale che comprenderà sia Sciacca Centro che le periferie. Sì, tanto grazie per essere qui a testimoniare questa iniziativa importante per interlocuzioni con l'ispettorato del corpo forestale regionale. Nella persona dell'ispettore capo, l'ingegnere Crapanzano, il comune già da tempo aveva fatto la richiesta per l'utilizzo dei mezzi e degli uomini del corpo forestale. C'è stato l'assenso ovviamente perché voi sapete che già loro hanno fatto questo intervento l'anno scorso. Durante i mesi della pandemia, proprio allo scoppiare della pandemia, sono stati fatti diversi interventi. Adesso proprio su questi tipi di interventi ci sono anche delle opinioni differenti. C'è chi ritiene che non sono utili rispetto al virus. Come mai il comune di Sciacca ha scelto invece di eseguire l'intervento? Intanto perché noi riteniamo opportuno che proprio in questo periodo di lockdown che ci dà l'opportunità di fare l'intervento in notturna senza persone in giro si possa fare un intervento di sanificazione. I materiali che vengono utilizzati non sono nocivi per le persone ma sono dei antibatterici e dei antivirali che vengono sparsi per la città con i mezzi che abbiamo a disposizione. Ribadisco, lo scopo è quello intanto di sanificare il nostro territorio che non è mai una cosa sbagliata. E la seconda cosa è far capire alla popolazione che intanto il territorio è attenzionato e lo spiegamento di forze che vedete lo testimonia. Partirete stasera però sarà un intervento a scaglioni per raggiungere l'area dell'intero territorio che comunque è molto vasta. Assolutamente perché intanto noi abbiamo a disposizione quattro mezzi tre del corpo forestale che fanno la sanificazione più i mezzi di supporto e inoltre abbiamo i mezzi dei volontari di protezione civile che faranno da battistrada per i mezzi della forestale e con i mezzi propri invece andranno nelle aree dove ci sono i vicoli, sono più strette e quindi si può arrivare a toccare tutto il territorio. Volevo approfittare di questa vostra presenza per ringraziare innanzitutto, ribadisco il corpo forestale, i volontari di protezione civile della nostra città rappresentati da Calogero Catanzaro e da Angelo Bonsignore senza i quali noi non avremmo assolutamente potuto fare nessun tipo di intervento. E per ultimo consentitemi di ringraziare i nostri uffici, qui abbiamo la presenza del nostro responsabile di protezione civile, il nostro dirigente di protezione civile, l'architetto Misuraca, il nostro responsabile, il geometra lì, sempre attivi, sempre determinanti per la pianificazione. E non ultimo il nostro sindaco che ha sposato questa iniziativa in maniera entusiasta e siamo qui proprio per fare il nostro dovere e per dare un segnale alla città che il Covid è presente e che noi facciamo il possibile per cercare di fermarlo. Facciamo intervenire anche Gianmarco Lì che è responsabile della protezione civile a Sciacca. Uno di questi interventi era stato fatto in piena pandemia, adesso si sta ripetendo. Tra le altre cose sono le norme nazionali che in questo momento predispongono questi tipi di interventi. Siamo che è un suggerimento di intervenire dove è possibile. E quindi qui considerato che abbiamo questo accordo con l'amministrazione del corpo forestale, quindi possiamo attuare questa norma. Pensiamo che è sempre un valore aggiunto per sconfiggere, per combattere il problema epidemia che momentaneamente assilla tutto in quanti noi. E quindi abbiamo pensato ancora una volta di portare avanti questa iniziativa. Possiamo rassicurare tutti che è un intervento che non è nocivo per l'amministrazione? Assolutamente, non ha effetti collaterali per gli animali, per le piante. Già in passato abbiamo avuto questo tipo di problema o quantomeno la gente si chiedeva se ci potessero essere problemi di questo tipo. Noi possiamo assicurare che dalle schede tecniche e dal fornitore ci è garantito che non ci possono essere nessun problema per animali, piante e altre cose di questo genere.